Noi abbiamo organizzato, cioè il nostro compito è quello di addestrare gli infermieri a questo tipo di attività che prevede la gestione di casi a bassa complessità, quindi loro per un periodo di sei mesi circa verranno affiancati da noi e quindi il paziente viene visitato e la patologia viene risolta dall'infermiera, ma con la nostra supervisione. Quindi comunque il medico è qui nel caso in cui ci sia bisogno anche di un confronto? Sicuramente il medico è sempre presente. Per quanto riguarda la casistica rispetto alla quale l'infermiere può intervenire, ci sono tutta una serie di protocolli, nel senso che interviene sulla base di quella che è la formazione specifica che è stata fatta. Certo, infatti il nostro compito è stato anche quello insieme agli infermieri di stilare dei protocolli su cui loro poi si basano per affrontare queste piccole patologie e appunto basandosi su questi protocolli trattano il paziente, sempre con la nostra supervisione. Il fatto che venga gestito interamente dall'infermiere la problematica, dal punto di vista dell'utente, secondo lei diciamo crea magari un po' più di timore, nel senso che c'è qualche utente che dice però mi deve vedere il medico? Ma fino ad oggi sinceramente non ci è mai capitato, anzi da parte dell'utenza abbiamo notato che c'è abbastanza soddisfazione. Grazie.